Musica Dal 7 al 10 novembre 2012 preso il Centro Congressi di Rimini si è svolta la sedicesima edizione di Ecomondo, fiera internazionale del recupero di materie ed energia e dedicata a raccontare il mondo dello sviluppo sostenibile. In concomitanza con l'evento anche un'altra manifestazione di grande interesse, la sesta edizione di Key Energy dedicata a raccontare appunto il mondo dell'energia e della mobilità sostenibile. Si è parlato di compostaggio, biogas, cogenerazione, fotovoltaico, ma andiamo a conoscere il punto di vista degli imprenditori del settore. Plus si occupa di energia, fonti rinnovabili, siamo una struttura che si occupa di valorizzare le risorse che i clienti hanno nelle proprie attività, sia a livello industriale che a livello di scarti per esempio nell'ambito agricolo. Siamo presenti a Ecomondo con il nostro stand in quanto proponiamo delle soluzioni specifiche per gli allevatori, in questo modo potranno valorizzare gli scarti che producono la loro attività lavorativa, producendo dell'energia con fonti rinnovabili quindi, incrementando il reddito agricolo. Nell'ambito dell'efficienza energetica per l'industria proponiamo impianti di cogenerazione, quindi produzione localizzata di energia in modo più efficiente rispetto a quello che oggi le industrie possono fare, riducendo ovviamente i costi di gestione, quindi questo è un modo anche di aiutare le aziende, la piccola e media impresa a essere competitivi a livello europeo e a livello di mercato mondiale. Noi siamo dislocati come sede operativa in provincia di Brescia, a livello di mercato siamo su tutta l'Italia sostanzialmente, abbiamo una filiale anche operativa nel centro-sud, nelle Marche, e come mercato di riferimento appunto è fondamentalmente l'Italia, ci stiamo occupando anche di interzionalizzare l'azienda, quindi di andare un po' ovviamente all'estero per ragioni di opportunità e per presentare i nostri prodotti e le nostre soluzioni anche in paesi dove magari questo tipo di attività non è ancora sviluppata. Come gamma di servizi stiamo anche crescendo nell'attività di service, quindi post vendita dai nostri impianti, siamo in grado di realizzare l'impianto completo per il cliente, secondo le esigenze del cliente. Aspetto fondamentale è poi anche la sua gestione e manutenzione e su questo è un altro fronte su cui Enplus sta crescendo.